Centinaia di persone hanno assistito domenica sera i fuochi d'artificio che hanno chiuso ufficialmente la Fiera delle Grazie edizione 2014. Nonostante una notte di pioggia che ha cancellato purtroppo i dipinti sul sagrato, questa edizione è andata molto bene. Pienone soprattutto a Ferragosto, quando Mantovani e Non hanno deciso di trascorrere la giornata a Grazie. Com'è la fiera oggi? Perché Ferragosto ha le Grazie? Così perché non ha nient'altro da fare, poi è tradizione che di solito veniamo al pomeriggio a fare un giro. Lei di dov'è? Di Verona. La prima volta che viene? La prima volta, ho guardato oggi su internet dove si poteva andare a passare la giornata. Ma siamo venuti qui. Com'è? Molto piacevole. Di dove siete? Brescia. Prima volta qua alle Grazie? Sì, 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 è la prima volta che veniamo. Cosa vi sembra? Un bel movimento. Siamo di Verona. Oggi qua perché? Ma perché abbiamo visto il tempo un po' incerto, allora abbiamo deciso di passare una giornata diversa dal solito, anzi un Ferragosto diverso dal solito. Com'è? No, è particolare, è carina. Ferragosto alle Grazie come da tradizione? Direi proprio di sì. Immancabile. E coloro che sono venuti a Grazie per la prima volta non hanno potuto non rimanere affascinati dalle opere dei Madonnari. Sono molto belli direi. Io la prima volta che vengo però sono veramente molto belli. Hai visto qualche soggetto che l'ha colpita? Abbiamo visto solo alcuni, quelli di Papo Francesco sono molto belli. Sono belli. Però io ho preferito... Difesa sull'infanzia, quella molto bello. Molto bravo, comunque sono molto bravi. Come sono i Madonnari quest'anno? Le piacciono? Molto belli, molto preparati anche. E come dimenticare il Cotechino? Quanto Cotechino avete fatto? Beh, abbastanza per stancarsi. La fila c'è stato tutto il giorno e Cotechino ne ha dato abbastanza. È stato molto gradito, molto elogiato anche. Fiera delle Grazie uguale Cotechino a Ferragosto, quindi una tradizione mantovana ma che anche dalle province vicine come Verona per esempio apprezzano molto. Buono, le tripe devo ancora assaggiarle, però saranno buone anche le tripe. Oggi è buonissimo. Prima volta, quale? Grazie oppure? Quasi sempre, quasi sempre. E tutti gli anni Cotechino? Tutti gli anni Cotechino. È una tradizione, anche se fa caldo, però il Cotechino va bene.